ben ritrovati qui su questo canale spacciatore seriale ed oggi dobbiamo parlare delle nuove serie tv in uscita a febbraio 2020 questo video come sempre è in collaborazione con i miei amici di non solo punto tv andate lì a conoscere hanno vari network si occupano di spettacolo di show di serie tv di cinema insomma un po di tutto adesso partiamo con la carrellata di titoli e iniziamo subito il 7 febbraio 2020 lock and key prima stagione distribuita dalla piattaforma streaming netflix una serie di genere drammatico fantastico horror thriller tre fratelli si trasferiscono in un'antica proprietà dopo la morte per omicidio del padre qui scoprono tre chiavi dai misteriosi poteri che dovranno essere usate contro una malvagia creatura che vuole impossersarsene 9 febbraio 2020 homeland ottava stagione in onda su showtime l'ultima stagione di questa serie di genere drammatico spionistico l'ultima attesissima stagione con il finale dell'arco narrativo di kerry mettson la protagonista e tutti gli altri personaggi speriamo veramente chiudere i cerchi 13 febbraio 2020 castle rock seconda stagione distribuita dalla piattaforma streaming stars play di genere horror antologica fantastico thriller giallo talamente geniale terrificante di stephen king la serie racconta quali orrori si nascondono dietro la facciata della tipica cittadina di provincia americana 13 febbraio 2020 narcos messico seconda stagione distribuita dalla piattaforma streaming netflix di genere drammatico crime poliziesco le attività illegali del traffico di droga in messico soffermandosi sull'ascesa negli anni 80 di felix gallardo che costruisce il suo impero 14 febbraio 2020 000 prima stagione in onda su sky atlantic di roberto saviano genere drammatico l'impero mondiale della cocaina si regge su un sottile equilibrio che lega insieme personaggi e organizzazioni potentissime e senza scopi 000 ci racconterà cosa succede se questo equilibrio viene a mancare 17 febbraio 2020 the outsider ancora dalla mente di stephen king prima stagione in onda su sky atlantic genere thriller una pacifica cittadina viene scossa da un atroce crimine ai danni di un bambino tutte le prove sembrano portare ad un unico sospettato ma le indagini ci porteranno in altre direzioni 24 febbraio 2020 better call soul quinta stagione distribuita dalla piattaforma streaming netflix di genere drammatico commedia l'attesa quinta parte dello spin off di breaking bad sempre più soul goldman e meno jimmy mcgill 27 febbraio 2020 alter ed carbon seconda stagione distribuita dalla piattaforma streaming netflix di genere fantascienza drammatico il crime mystery è ambientato in un futuro in cui la coscienza è digitalizzata e immagazzinata in impianti collocati nella colonna vertebrale permettendo così di sopravvivere alla morte fisica a fine per vis- 1970 i